Sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e rappresentano una delle forme di risparmio preferite dalle famiglie. I buoni fruttiferi postali e libretti infatti godono della fiducia di oltre 27 milioni di italiani per la loro semplicità e la loro sicurezza, a partire da quelli dedicati ai minori. Il buono può essere regalato dai genitori, nonni, parenti e amici e matura interessi fino al compimento della maggior età del piccolo risparmiatore. Questi buoni garantiscono un rendimento annuo lurdo fisso crescente fino al 6% ai 17 e ai 18 anni. Annontaglio minimo di sottoscrizione di 50 euro, una liquida agevolata del 12-50% come titoli di Stato, nessun costo di sottoscrizione, nessuna tassa di successione e l'imposta di bollo scatta solo con una giacenza media superiore a 5.000 euro ed è lo 0,2%. Possono essere sottoscritti online o presso qualsiasi ufficio postale. Nell'ufficio postale di Napoli Secondia è un prodotto molto richiesto in quanto le famiglie sono giovani e scelgono spesso il buono fruttiferi a minore come risparmio e investimento per i loro bambini. È possibile richiedere il rimborso in qualsiasi momento? Assolutamente sì, i buoni intestati a minore hanno una scadenza naturale al 18 anno di età ma possono essere rimborsati in anticipo con autorizzazione del giudice tutelare e viene garantito il capitale più gli interessi dopo il 18 mese con un rendimento annuo lordo dello 0,50%. Questo dei buoni fruttiferi per i minorenni è molto utile per voi genitori? Sì, certo, noi soprattutto per un futuro, per un avvenire per i bambini, anche perché oggigiorno risparmiare significa molto. Un ottimo investimento per noi genitori e per un futuro ai nostri figli. Il posto italiano è la numero uno in questa cosa. Il posto italiano è la numero uno in questa cosa.